Bene, allora buongiorno a tutti, tra l'altro con piacere torno dopo sette anni a Bricodei e quindi l'occasione è quella di intanto credo recuperare un po' di tempo concentrandoci soprattutto su due cose intanto raccontare molto brevemente chi è Zorio, ci definiamo una start up perché in effetti abbiamo iniziato a lavorare in Italia a questo concetto nel 2012-2013 come dicevo nel 2015 abbiamo aperto il primo negozio che è un po' il nostro laboratorio su cui una start up comprende e cerca di ricavare le prime esperienze grazie alle quali abbiamo aperto un secondo negozio a Rescaldina nel centro commerciale di Oshan e pochi mesi fa a giugno il terzo negozio a Busnago Zorio si rivolge a quello che possiamo intendere il mercato della casa un mercato molto diverso dal rispetto a quello che culturalmente siamo stati sempre abituati a immaginare un po' con l'esperienza dei negozi di casalinghi, negozi di liste nozze quindi quando abbiamo iniziato a parlare di Zorio a riflettere di lanciarci ad aprire in Italia quello che in realtà altre aziende all'epoca chiudevano perché erano degli anni complicati ovviamente abbiamo cercato di fare nostro un'opportunità e quindi quali sarebbero stati poi degli elementi diversificanti che ci avrebbero permesso di iniziare un cammino format da 3000 metri quadri di cui 2500 metri quadri consacrati alla vendita ma 500 metri quadri concentrati a tutta una serie di attività che vediamo di tra virgolette servizio verso cliente per parlare di Zorio dicevo gli anni che il mondo è cambiato lo stiamo raccontando e ne avete anche approfondito non male in queste giornate quindi il vero tema è come noi avremmo cominciato a costruire delle convinzioni forti su tutto quello che avremmo potuto reinventare quindi il tema fondamentale per noi era quello di lavorare su quella che sarebbe stata la shopping experience e diciamo che nell'epoca in cui le 4P non esistono più adesso abbiamo inventato le 4C ma adesso ho letto passate a 8 io vi propongo qualche idea confusa su 6 certezze nostre la prima delle quali è la relazione quindi quando abbiamo immaginato di inventarci un concetto la relazione è la nostra colonna vertebrale e poi sentivo la professoressa parlare di touch point immaginiamo che la relazione i touch point sono le nostre vertebre della colonna vertebrale quindi parleremo di relazione parleremo di un negozio che si pone innanzitutto di offrire al cliente qualcosa di utile oggi se non si offre qualcosa di utile si è fuori ma utile non soltanto per il cliente utile anche per i nostri collaboratori e anche l'ambizione domani di essere utile al contesto in cui lavoriamo il quartiere, la società ma anche bello perché ci occupiamo di casa e quindi l'aspirazione di ogni nostro cliente è quello di avere da parte nostra un supporto, un aiuto a rendere la propria casa capace di raccogliere la personalità di chi ci abita come dicevo, altro punto forte, ci siamo chiesti dove creiamo delle differenze dove creiamo dei disequilibri e delle rotture perché oggi è ovvio che questo è un elemento forte ne parlavamo credo prima quando si parlava di che cosa il cliente sta cercando altro tema forte è quello di conoscere e riconoscere quindi conoscere bene i nostri clienti, i nostri non clienti e poi una volta che li abbiamo accorti e conosciuti trasmettere a loro il fatto che li conosciamo l'altro tema è circondati di appassionati e quindi Zodio è un concetto che lavora soprattutto su delle passioni per la casa circondarsi di appassionati sia dal punto di vista dei collaboratori che dei clienti fa andare più veloce quindi apprendiamo più velocemente e poi l'ultimo tema l'opportunità di creare un'azienda io dico sempre dopo la prima guerra mondiale del commercio è quello anche di passare della teoria alla pratica quando diciamo fai guidare l'azienda dai collaboratori ma soprattutto dai clienti quindi se parliamo della casa siamo un concetto che soprattutto cerca di comprendere qual è la vita quotidiana cerca di comprendere quali sono i progetti di decorazione fare più bella la casa vuol dire trasmettere attraverso l'estro attraverso l'abilità e attraverso oggetti un qualcosa, un imprinting che dia un segno molto forte sui momenti di vita che i clienti vivono a casa quindi avete capito che sicuramente ci rivolgiamo a un target 85% femminile quindi gli uomini da noi lo si vede bene nella diapositiva vivono molte volte in qualche recinto ovviamente scherzo perché ma è soprattutto un target rivolto alla visione delle donne diversità la creiamo anche segmentando segmentando se vogliamo quello che è l'offerta in tre grandi mondi tre grandi pilastri la passione per la cucina dove ovviamente parliamo di non soltanto fare cucina ma anche tavola a ricevere quindi parliamo di accessori parliamo di anche prodotti alimentari coerenti con il nostro progetto e tutto il tema della convivialità del piacere di ritrovarsi a casa in momenti dove possono essere degli avvenimenti possono essere delle ricorrenze può essere il piacere di ritrovarci su un terrazzo berno aperitivo questo è il pilastro principale poi abbiamo un pilastro che è il mondo di tutto la cura della casa quindi un'offerta tessile un'offerta che va in trasversale bagno cucina e salone tutto l'aspetto del benessere del cuconing e chi ama la casa la vuole profumata e la vuole anche ordinata e il terzo elemento grande pilastro è quella che noi chiamiamo la casa creativa diciamo che qui riassumiamo tutto il mondo del DIY femminile quindi sono le passioni ad esempio lo scavooking ad esempio tutto quello che può essere dare forza a tutta la creatività quando parliamo di relazione ci siamo reinventati un negozio più a misura di quello che noi immaginiamo debba essere il nostro fan quindi il primo tema era creare un luogo nel quale poter costruire la relazione e quindi nei nostri negozi spingiamo molto l'immaginario abbiamo creato ad esempio degli spazi che chiamiamo salone creativo esattamente l'evocazione di una casa con un angolo living con un angolo dove si può mangiare si può bere caffè si può parlare si può incontrare le altre persone si può prendere un momento di relax si può ritornare a mettere senso in quello che è sempre stato la visione del grande negozio abbiamo immaginato Zodio come un negozio che cercasse di sviluppare tutti gli assi sensoriali qua ve ne cito quattro perché il quinto diciamo l'udito il suono è ancora in cantiere ma sicuramente è un negozio dove tutto si può toccare ogni prodotto è esposto e non ha confezione il cliente può venire a contatto può fare un'esperienza già in primis diretta ci sono dei punti anche particolari dove la sensorialità ad esempio vuol dire che le donne possono provare delle creme si possono andare le mani possono fare dei gesti che vanno direttamente a contatto con la sfera della sensorialità ad esempio l'odorato abbiamo tutti i prodotti alimentari dove la magia ad esempio è quella di conoscere attraverso il profumo una qualità di tè o di caffè che non conoscevamo o una spezia di cui ne abbiamo sempre sentito parlare ma non abbiamo mai avuto un'esperienza e quando qualcuno sente il profumo di un tè particolare la strada all'acquisto è praticamente diretta c'è il tema del colore altro leva marketing molto importante per chi è in un progetto si proietta in un progetto di casa il colore lo lavoriamo con una colorama di 20 colori dove cerchiamo di seguire il cliente nella coordinabilità di un progetto decorativo ovviamente offriamo anche una consulenza su tre stili così come immaginiamo segmentare i gusti degli italiani e poi ovviamente ultimo ma il primo è il gusto perché l'asse fondamentale della costruzione del nostro concetto è proprio la cucina e poi adesso ne parleremo altro aspetto differenziale in un mondo dove le persone non cercano più prodotti ma cercano esperienze era costruire un negozio che facesse leva esattamente su questo quindi vi vi racconto anche rapidamente che quando abbiamo immaginato di fare una differenza la prima preoccupazione era quella di fare la differenza con le persone e quando dicevo circondati di appassionati i primi appassionati sono le persone che lavorano in Zodio e quindi siamo andati a cercare le migliori espertise le migliori passioni e le migliori persone anche che siano collegate in rete tra di loro quindi quando raccontiamo che lo sforzo è quello di collegare di fare un ponte tra un prodotto e che cosa me ne faccio del prodotto vuol dire che abbiamo sviluppato tutta una serie un dispositivo di accompagnamento per il cliente dove uno ti do un progetto due ti do il prodotto e tre ti accompagno a imparare a utilizzare questo prodotto tenete presente che Zodio ha come mood interno come look interno due terze degli investimenti delle energie che facciamo in costo del lavoro quando noi immaginiamo un negozio in ispirazione il primo tema che ci poniamo è devi dare un'ispirazione al cliente un'idea al cliente nel mondo del bricolage sapete quanto è difficile aiutare i clienti ad abbinare dei colori sulle pareti e quindi se andiamo poi nel dettaglio di un progetto di decorazione della casa è ancora più complicato quindi l'ispirazione rimane il punto chiave vuol dire coinvolgere il cliente anche in tutto quello che è l'esperienza quindi non solo attraverso degli atelier e delle scuole all'interno del negozio ti aiuto a realizzare il progetto ma dovunque tu vivi nel negozio puoi innanzitutto provare i prodotti come dicevo abbiamo all'interno del negozio dei punti dove i nostri collaboratori possono mettere in condizione i clienti a capire come funzionano gli oggetti tenete presente che il 100% dei collaboratori di un negozio è in grado di tenere delle scuole in grado di spiegare nel dettaglio l'uso del prodotto ma e qui cominciamo a entrare nel mondo del coinvolgimento dei clienti i clienti sono con noi perché sono i più appassionati a spiegare i prodotti ad altri clienti e c'è un'immagine dove vedete che c'è qualcuno che lo spiega dicevo non soltanto un progetto ma anche un'esperienza in un negozio zodio avendo il pilastro della cucina il pilastro della decorazione abbiamo due atelier uno dedicato alla decorazione e uno alla cucina dove abbiamo uno chef e quindi c'è la possibilità di iscriversi ai nostri corsi e quindi di seguire dei corsi su tutto diciamo gli aspetti più anche moderni quindi ci occupiamo di tutti i gusti quindi di tutte le tendenze facciamo team building quindi includiamo i clienti in un progetto anche di relazione perché si trova come ad esempio il social eating a condividere un corso di cucina con persone che non conosce e ovviamente creiamo anche tutta una serie di eventi per far passare un buon momento al cliente quindi abbiamo dei clienti addirittura che sono venuti in un anno 15 volte a fare le cose la conoscenza del cliente ci permette quindi la relazione che getta ponti con i clienti ci permette di fare un'evoluzione nella quale noi crediamo moltissimo che come vi dicevo dai il potere al cliente il primo tema del potere al cliente lo costruiamo cercando di mettere in relazione molto forte dal punto di vista progettuale il pilotaggio di un negozio con la visione del cliente e quindi vi racconto ad esempio che abbiamo i clienti più appassionati che coinvolgiamo a diventare ambasciatori l'ambasciatore è un cliente è un super cliente del nostro negozio è un cliente che quindi anche economicamente ci crede e ha una expertise alcune volte superiore sicuramente la nostra e quindi gli proponiamo di diventare ambasciatore l'ambasciatore è qualcuno che si mette a fianco di noi in tanti processi della vita di un negozio ad esempio nel reparto cucina ne abbiamo quest'anno coinvolti 12 sono per la maggior parte delle donne che hanno delle passioni su segmenti precisi della cucina chi fa cake design chi fa pasticceria chi fa ad esempio cucina etnica chi fa ad esempio cucina vegana eccetera eccetera sono le persone che sono più in avanti rispetto alla nostra visione della cucina perché un appassionato sta ore alla sera davanti a un pc conosce i referenti anche internazionali quindi è in grado di trasmettere all'azienda anche la visione del futuro e ad esempio i nostri ambasciatori cosa hanno fatto quest'anno ma con noi abbiamo realizzato un catalogo che abbiamo distribuito in 300.000 copie dove tutti i contenuti i progetti le ricette i prodotti sono stati scelti da loro e quindi esattamente dalla visione del cliente abbiamo corretto le bozze con loro e poi automaticamente abbiamo costruito un calendario di corsi dove gli chef erano direttamente i clienti e tra l'altro introducendo anche un concetto che poi svilupperemo sicuramente nel futuro di ecosistema e di sharing economico quindi il cliente guadagna anche tenendo dei corsi da Zodio e il passo che vorremmo fare nel futuro è coinvolgere i collaboratori coinvolgimento dei clienti vuol dire anche come vi dicevo sfruttare il suo punto di vista la sua creatività la sua abilità nel concepire i prodotti nel corso degli ultimi due anni abbiamo costruito 25 prodotti esclusivi perché li abbiamo inventati coi clienti grazie al fatto che abbiamo avuto l'accesso anche a delle fonti di produzione smart per un'azienda piccola come la nostra e volumi piccoli e quindi abbiamo creato una serie di articoli nel mondo del tessile della casa abbiamo creato dei articoli nel mondo della creatività e l'aspetto interessante come vi dicevo che i clienti li integriamo nel processo decisionale d'acquisto e quindi con alcuni semplici riti del tipo ti metto una gamma di campioni un po' nostro un po' della concorrenza i clienti prendevano i prodotti erano loro che davano il valore quanto sono disposto a spendere quanto ho capito del prodotto e se vogliamo vendere questo prodotto che cosa dovete raccontare agli altri clienti come noi quindi integrati in questo progetto e andando ancora più in là una volta che si costruisce un legame umano con i clienti esperti appassionati entriamo in quella logica che ogni appassionato ha nel suo smartphone una rete di blog di community di altri appassionati come noi io credo che tutti quanti noi in whatsapp abbiamo perlomeno io non so voi 3, 4, 5 comunità dal condominio piuttosto che alle mamme a scuola piuttosto che gli amici del calcetto eccetera eccetera bene l'appassionato ha la stessa cosa e quindi è già portatore nel negozio di una comunità il vero tema è che farci con questa comunità i nostri collaboratori quando noi li assumiamo essendo degli appassionati esperti hanno e portano nel negozio le comunità quindi conoscendo queste comunità riusciamo ad andare a conoscere dei segmenti di passione e quindi di mercato che gli altri non vedono ad esempio ci siamo inventati il Knit Cafè che è facciamo la maglia insieme è quello che fanno gli appassionati di maglia che si ritrovano nei bar molte volte nel retro dei negozi per passare un momento insieme fare la maglia fare la chiacchierata verso il caffè ecco noi questo lo portiamo in negozio e quindi apriamo le porte le porte ovviamente gratuitamente per chi vuole fare della maglia e stare con la miti e passare un momento poi abbiamo scoperto che esisteva l'arm knitting quindi fare la maglia qui sicuramente abbiamo delle donne appassionate che sanno bene di cosa sto parlando abbiamo creato ad esempio degli eventi scrap day quindi nella passione della carta lo scrap abbiamo l'ultimo momento anche di comunità l'abbiamo intercettata con lo swap day quindi la possibilità di far incontrare delle persone delle mamme che volevano probabilmente disfarsi di piccoli capi di abbigliamento per i bambini e quindi hanno fatto un momento di scambio decorando e mettendolo a disposizione di altre persone quindi il tema di intercettare degli eventi è un tema su cui Zodio sta lavorando con una grande intensità e quindi quella di poter poi quando parliamo di touch point sviluppare un touch point importante che dopo la visita dopo che ci siamo conosciuti dopo che abbiamo costruito magari con whatsapp una nostra piccola comunità questo tipo di relazione continua a casa e quindi ogni nostra persona continua a casa o anche in negozio ovviamente nelle ore di lavoro a parlare con i clienti e quindi il piccolo consiglio il piccolo suggerimento la foto che io faccio a casa per dire guarda domani vengo e ti porto questo quindi perché è importante perché è strategico oltre a tutte le cose che abbiamo sentito la relazione col cliente perché ci fa guadagnare del tempo impariamo di più correggiamo più velocemente degli errori anzi molte volte ne evitiamo alcuni clamorosi e oggi la velocità con tutti i temi che abbiamo discusso fino a un secondo fa compreso quello del digitale è fondamentale la loyalty ovviamente quando dico devi conoscere i tuoi dieci migliori clienti accogliere il negozio come fossero i tuoi amici e sapere trasformare una visione del retail di cifra d'affari da reparto a cifra d'affari per il cliente sul cliente vuol dire che la loyalty è fondamentale quindi siamo partiti con una loyalty senza tessere completamente digitale perché è così che funziona abbiamo in due anni circa 80.000 cartative siamo in grado oggi di avere il nostro big data su cui lavorare e per questi clienti i clienti migliori quelli VIP più alti spendenti organizziamo 5-6 volte all'anno delle serate speciali e quindi degli eventi soltanto pensati per loro dove ovviamente andiamo a raccontare una storia fan di divertimento con delle cose simpatiche che succedono nel negozio le competizioni ad esempio delle gare di cucina delle gare di decorazione e ovviamente dei gesti commerciali esclusivi mirati a questi clienti e concludo è una mia mania ma credo che sia uno dei problemi fondamentali quando dobbiamo far cambiare la rotta a qualche transatlantico a qualche grosso bastimento il tema non è tanto solo guardare con occhi moderni gli strumenti il digitale tutto quello che normalmente attanaglia le nostre vite in maniera simpatica l'aspetto fondamentale è la cultura interna è il DNA che noi costruiamo dal primo giorno quando accogliamo nella nostra azienda nella nostra avventura una persona che di fianco a noi porterà la nostra bandiera verso il cliente quindi vi aspetto negli negozi Zodio con tanto piacere grazie Massimo Casolaro se sei in sala vieni qua che dobbiamo chiudere due domande Montemerlo l'incidenza del costo del personale quant'è? adesso è scesa ed è di? siamo sul 16-17% scenderà? un giorno la faremo scendere ma se si inventa un concetto bisogna anche credere in alcuni investimenti per cui sicuramente sull'aspetto dell'efficienza interna abbiamo molto da fare perché noi siamo a scuola abbiamo due anni quindi con grande umiltà ma credo che se uno vuole avere un grande progetto una grande visione non avrà mai in questo mondo i numeri il primo anno tutti quanti giusti io personalmente sono molto più interessato a parlare di supply chain di là usare un cacciavite stella di grossa dimensione per fare delle efficienze e non essere mai costretto di arrivare a un costo personale come dire più secondo il modello economico che abbiamo in testa passando nel togliere quello che per me è la diversità quindi questa è la nostra scommessa questa è la nostra avventura e vedremo il break even di Rozzano è già a posto? no non è a posto ma nel nostro progetto quando si costruisce un negozio che non esiste con dei fornitori alcune volte anche improbabili perché questo bisogna dirlo perché è un mondo molto complesso dove non è soltanto retail impreparato ma anche buona parte dei distributori di prodotti noi non compriamo in Cina quindi abbiamo una logistica ancora oggi embrionale devo dire che nel progetto di Rozzano come nel progetto di Busnago il break even non è mai né al secondo anno né al terzo anno preferisco parlare del break even di un'azienda che per poter vivere deve aprire minimo 10 negozi e quindi ma credo che sia questo non esiste una catena che vuole fare investimenti nel digitale 28.000 prodotti relazione impeccabile che non abbia una visione a lungo termine per le visioni a breve termine ci sono gli alberi delle mele basta scrollarlo ma quando le mele sono scese non ce n'è più buono buono questa paradigma l'ultima domanda io arrivo a Rozzano con il cane lo lascio in macchina o entro dentro in Zodio assolutamente noi anzi se andiamo nei negozi adesso Rozzano la domanda su Rozzano perché lei va sempre a Rozzano non me lo ricordo ma negli altri negozi abbiamo anche le ciotole quindi il tema interessante 58% degli italiani a casa un animale che al di là del marito dei figli ma un animale a quattro zampe e cominciamo a pensare anche il mercato di decorazione del mondo del cane non so mai se ci arriveremo ma comunque è parte integrante del modo di vivere a casa grazie Monteverlo grazie tanti auguri